Musica 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 Si è una partita determinata, questa da parte del Lecce, molto decisa, almeno per quanto si vede in questi primi minuti, anche se va detto che la formazione leccese non ha costruito trame offensive di partite un particolare rilievo, non lo ha neppure fatto la Juventus, ma si sottolinea comunque la determinazione con la quale la formazione del Lecce gioca questo confronto e con molta attenzione. Intanto vediamo questa conclusione e Baldieri al ventiduesimo minuto porta in vantaggio la formazione del Lecce, un'azione quasi improvvisa, non scaturisce da una manovra coordinata e poi questo tiro improvviso, questa battuta di destro da circa 25 metri con pallone che rimbalza di fronte a Peruzzi colto un po' di sorpresa da questa conclusione e pallone in retto. Primo piano per Baldieri, una militanza nella Roma e nel Pisa da alcune stagioni a Lecce, pronto nel liberarsi dalla marcatura di Piole e pronto anche a calciare di prontezza dalla distanza. Lecce dunque in vantaggio. Lecce dunque in vantaggio.